Ci sono stati nuovi arresti per le aggressioni sessuali, le rapine di Capodanno a Milano. La polizia ha arrestato due minori di nazionalità egiziana di 16 e 17 anni ed è solo l'ultimo episodio di casi di violenza nel capoluogo Lombardo dove oggi si tiene il Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza. Da lì ci aggiorna la nostra inviata, Giuseppina Tessoni. Buongiorno. Buongiorno Elena. Proprio come dicevi, questa mattina sono state effettuate due ordinanze di custodia cautelare disposte dal GIP del Tribunale dei minorenni nei confronti di due giovani di origine egiziana. Hanno 16 e 17 anni. Uno risulta residente regolarmente qui a Milano, l'altro invece è un minorenne non accompagnato. Sono indiziati delle violenze a sfondo sessuale compiute nei confronti di due ragazze, di due turiste tedesche da notte di Capodanno a Piazza Duomo, ma uno di loro, il sedicenne, è indiziato anche della rapina, sempre a danni di persone che si trovavano lì in piazza a festeggiare il Capodanno. Soltanto uno dei tanti episodi di violenza, lo ricordavi, che in questi ultimi mesi si sono verificati qui a Milano e proprio oggi alle 11 la ministra dell'interno Lamorgese partecipa al Comitato per l'Ordine e la Sicurezza in Prefettura. Ricordiamo che la sesta Lamorgese è stata proprio prefetto di questa città ed è arrivato l'appello nei giorni scorsi anche del sindaco Beppe Sala finché vengano mandati rinforzi delle forze dell'Ordine proprio per gestire questa emergenza a sicurezza qui in città. Per ora questi gli aggiornamenti, a più tardi.